Buongiorno a tutti, cioè buonasera e sono qua con... vado a far tutto aspetta mi ha morto tutto ok perché mi muore Wild quindi sapete questo giorno che questa volta che muoio è perché Wild ha buggato non riesco a attaccare, non riesco a fare niente. Qua sono qui con Giada su Wild e la chat fa schifo la censura tutta la chat, la mia rosita ok faccio scavare, che bello stiamo quasi a 100 iscritti vi adoro un botto mancano 5 iscritti raga a livello 100 che bello, cavolo, cavolo è vero ci sono le musiche qui ok stiamo a... può fare qualcosa credo su Wild, aspetta mi va velocità, che non vedo inizio a saltare a casa... no perché no e niente il pangolino è fino a lì, questi cosi qua, non siamo circondati aiuto un po' di tutto oddio ma c'è un pando wow morirò tra 20 secondi ah sì, tra poco è un nuovo anno, comunque l'ho augurato un buon Natale in questi video auguri sì ma quanti sono? no grazie solo aiuto sto morendo aiuto ma... mi ho panca adesso, stai morando sì... nooo nooo che bello oddio sono un genio che bello sono morta eh? vabbè, è il classico aspetta che mani un attimo eh? cos? non avevo capito aspetta che scioppo un attimo perché devo... è istantanea, devo sciopare che merda, se niente raga, è che non trovo mai niente di bello aiuto aspetta, no no, non si spegne stiamo messa d'accordo su cosa fare, quindi... i... no i... allora ah no, aspetta eh, ho sbagliato anche Rosita, aspetta eh, è un casino però aspetta eh, ho sbagliato cattino ok vado stiamo facendo una cosa bella oddio, quel pangolin lo vedo male ci attacca vai, ok ok non si cronizzate ma dai carino oddio c'è sto tizio che vedo male, ti giuro vuoi cominciare a urlare a casa o speccia concerto vai ma ma perché? il concerto oddio, quel pangolino perché sto fissando quel pangolino vabbè rittagli no cosa ho lanciato? vabbè ho lanciato qualcosa allora allora ammirate il mio concertio perché stiamo in esclusiva ora? ecco 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 quello che si fa con la propria no la propria bff dei video niente unicamente si fa stile pangolino oddio ma che versi fanno i pangolini? si ho tolto la musica perché mi dà fastidio ma mi rotoli addosso ma non sei normale ma mi rotoli addosso sto insultando il pangolino lo so ah è morto godo un altro è pieno gente ce l'ho buco tra un'ora mi daranno le missioni del wild pass perché necessito quella a schiena no no il pangolino questo dammi da scavare dammi da scavare me l'ha dato yup questo pangolino muore il pangolinoide io non so io metto queste parole a caso cioè guarda se io necessito questa skin dov'è? questa lei la necessito tra un'ora e nove minuti mi da la e vabbè tranquilla aspetta oddio ma è vero l'ho lasciatela scavare ma... non lo so allora c'è la capra da comprare e roba ora ora ci vado perchè devo comprare allora non mi ha appena dato un animaletto ma io tengo la mia coccinellina perchè è giusto ok c'è Giada che sta attaccando sti cosi che non ho capito che scacchio sono non troppo ma cos'è un camus? non ho capito cosa è sta roba però vabbè in ogni caso non laghi più no mi ha dato il nuovo lunare perchè non mi ha dato la cassa? boh vabbè io apro eeeh che gioia ho scioppato nooo bene no dov'è? dov'è finito? dov'è Giada? scappa ma c'è un... un calvino proprio è carino è carino però è carino è carino e vabbè eeeh e li andà chica intanto io sto morendo perchè c'ho poca vita magno brava eeeh anch'io eeeh io molto spesso mi sono sfondata io invece non so scrivere non so scrivere vabbè ci rinuncio va bene ci rinuncio si quello mi sono sfondata io perchè ho avuto la brillante idea dal divano avevo una cassa lì tipo di cartone perchè non lo so ecco ce l'hanno dato a natale non sapevo dove mettere l'ho messa sul puff io che mi sono lanciata mi sono lanciata e sotterrata in terra shhh niente mi ha fatto niente mi basta io l'ho fatto niente oggi non c'era nessuno online c'è un pangolino 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 guarda mi ha ridito come attacca e l'ha pure questo pangolino oggi ma c'è un altro è spawnato un altro ma è spawnato e mi ha dato soldi vediamo se mi fa scioppare o no o si buga come prima che bello ci ho messo un'ora per capire che era un articolo omm allora dammi di potenza perchè anzi di salute perchè potenza che ne ho già abbastanza mi salute di una foca poi hanno tolto il bug del volo qui non si può neanche volare non si può neanche volare cioè non posso più volare non lo so io non posso volare ah aspetta devo volare lo dito aspetta non lo salta vale lo salta si c'è una voce da schifo che ha appena passato tipo un raffreddore tutto strano c'è una voce da schifo e per quello non lo so non lo so perchè forse sono andata a dormire alle 4 di notte stanotte no non lo sarà sicuramente per quello e non so cosa fare allora non c'è nessuno non c'è roger proprio online non c'è neanche io non c'è proprio nessuno vabbè meno male che c'è giada allora vediamo tra quanto 5 minuti 1 ora e 5 minuti oddio ma oddio ma questi siamo noi ho sbagliato tutto questo sono io anche io oggi sceso tipo un casino abbiamo litigato con uno oggi perchè ho scritto queste cose in chat aspetta che lo scrivo ancora non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ok un otizio a caso perchè ci ha detto avevo scritto queste cose ho scritto Mi servo un Bastic in chat Aspetta che lo scrivo ancora Sì, io solo non sono normale Stai guardando questo video? Ah, ah, sì Vattene Prima iscriviti, Alfa Vediamo quanto iscriviti ho Perché non lo so Stanno salendo di un casino in questo tempo Non lo so neanch'io perché E meno male Bomba fantastic 95 Ti piace Ti piace di uno Non lo so perché Oh no Mi sono morta anch'io Sette, muggy bug No Detagli No, what? Oh no Oh no C'è un po' che ha ruttato Ok Ok Che tagli Non mi baggo Io ho baggata Proprio Ok Capia Ah, c'è là il tizio Ah, è vero Vi devo far vedere come si fa a trovare il boss segreto Qui Ma non lo voglio Cioè Dove essere per già da vale Non lo so È di rakamu No, dov'è? Oh vabbè È di ramica Ce l'ho sonno Non lo so perché Dettagli Mi metto la mia maschera Che ho già questa qui Mi ho preso tipo 50.000 Ho anche questa qua Mi piace di più questa Però mi metto questa Non lo so perché Più che canto Ma No, perché? Buonissima Sì ho sta maschera Del cacchio Aspetta che Costumizzo la osita Beh, anche lei C'ha già la mia La mia maschera Preferita Ma ne metterò questa Oggi Rosy Dove cacchio hai? Scava Da brava Non posso mandare I qualicini Non posso Mondare I qualicini Ah sì posso Però Non Mi ricordo Però mi si Ah che tu Hai visto Quello Robo Eh Ma sì Ma sì Già È una mano Sul gruppo Aspetta che te lo mando Eh Specia Sì Sì Non so perché C'è questa cosa Che te lo mando Ah mi ha mandato Già da Un video Oh insieme Oh insieme Stiamo sincronizzate Troppo bella Troppo bella Troppo bella Dovrò cambiare il vestito Per quella skin Perché i graffi Non si vedono Non so perché faccio Ottimi di silenzio Che non so cosa dire Aspettagli Bombastic Sai dai Che oggi Ho messo nella chat Qualunque meme È possibile Cosa è il rumore Cosa è il rumore Ah ma Ah sono sti tizi I palace Oh no Muoio Oh no The table Is broken No Oh no Mi sono vendicata Questi gatti Ok abbiamo Giada Di nuovo Ha ammazzato Due gatti Eccola La sua connessione Vero Fa schifo La connessione In montagna In montagna Io entro in Tana Perché devo posizionare Quella roba Bene Specia che non so dove mettere Gli articoli Perché c'è una cosa Bella E non so dove metterla Però Allora Prima di tutto Devo Togliere qualcosa Un tappeto Questo qui Toglilo Perché fa schifo No veramente è bellissimo Però Ce ne ho tipo 40 Però Ti scocciano un po' Sti cosi Dopo un po' Dove è finito Il robo Che ho vinto Boh Ah è di qua Mi sa No mi sa È di qua Per forza Non è questa qua Quella bianca Qua lì ce l'ho già Non ce l'ho Ma qual è Non è questa Ma Non è neanche questa Ma Da dove Sta roba Vabbè Io posiziono Questa E qua Non ci sta Quindi Devo mettere Ah ok Ok niente E questo video si conclude qua Buona giornata Ciao Buona serata Ciao